I molisani nel mondo sono tanti e in tanti sono emigrati a partire dalla fine dell'Ottocento e fino alla metà degli anni 70 del secolo scorso, la gran parte dell'emigrazione, oltreoceano ma anche in Europa. Ci sono adesso molisani anche di seconda e terza generazione. Vivono in Argentina, Canada, Australia, Brasile e non solo. Mantengono vivo il legame con la terra di origine ma spesso non trovano uguale sensibilità tra i molisani che sono rimasti nei propri paesi e soprattutto dalle istituzioni. Il tema è stato trattato nell'ultima puntata di Moby Dick con diversi ospiti in studio e con i collegamenti in diretta da Buenos Aires e Mar del Plata. Adesso siamo noi molisani nel mondo a offrire qualcosa alla regione. Il nostro obiettivo è andare avanti con le nostre tradizioni, la nostra cultura. Siamo una grande famiglia. Noi quando veniamo nel Molise, cioè se sta un governo chi è, tra noi è molisano e basta. Quindi allora ti voglio dire, il vero da lontano vediamo che è stato in grandissima difficoltà. In Argentina è in atto anche la sfida per la presidenza della Repubblica tra due oriundi italiani, uno dei quali Daniel Scioli, a origini di Monteroduni. Gli stessi molisani però hanno espresso preferenza per lo sfidante ma la partita è ancora aperta. Al ballottaggio votiamo per Macri, per Maurizio. C'è un molisano in competizione, c'è Scioli. E va bene, per un molisano che non ha fatto le cose tanto bene qui. Il contesto politico l'ha ben descritto da Buenos Aires Viviana Greco. I sondaggi adesso, in questo momento, danno per qualche punto a Maurizio Macri, del centro-destra, perché quando ci sono state le elezioni è uscito prima Scioli per due punti e poi Macri e poi c'era il terzo che è anche Massa. Si chiama che anche lui ha preso il 21% che anche lui è un siciliano, insomma un altro italiano. La sintesi del confronto a distanza è stata fatta dallo storico Antonio D'Ambrosio. Dobbiamo saper leggere con gli occhi dell'attualità. Un investimento per il recupero della memoria, perché senza conoscere o valutare, studiare l'emigrazione, questa regione non ha significato. È stato il fenomeno più grosso che ci sia stato nel secolo scorso e ha condizionato le scelte, lo sviluppo, la sua vita, la cultura, tutto. Quindi recuperare la memoria e parlare ai giovani delle generazioni che sono lì a destra.